Tiene, due studenti minorenni sono stati denunciati per spaccio di droga dagli agenti di polizia locale nord-est Vicentino che li hanno colti in flagranza di reato. I poliziotti, a seguito di numerose segnalazioni di genitori preoccupati, avevano predisposto una serie di controlli mirati nei pressi di alcuni istituti scolastici della città. Veneto scorso, nelle vicinanze di un parcheggio sotterraneo, hanno notato quattro studenti con fare sospetto da cui proveniva un odore inequivocabile di cannabinoidi. In tasca di un sedicenne e di un dicesettenne sono stati rinvenuti 13 involucri di hashish già confezionati per lo spaccio, contenenti ciascuno una dose di circa un grammo, un bilancino di precisione e un coltello serramanico. Uno dei giovani ha tentato di darsi alla fuga strattonando un poliziotto, lanciando a terra un altro sacchetto contenente due agglomerati di hashish di 17 grammi, con sé un altro bilancino di precisione e 105 euro in contanti, somma ritenuta dagli agenti proventi di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato, i ragazzi dopo essere stati accompagnati dal comando sono stati affidati ai genitori.